La compagnia Carabinieri di Pozzoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia catelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su proposta della locale procura della Repubblica nei confronti di RF e GM, gravemente iniziati di aver commesso nel corso dell'estate dello scorso anno sei furti di motocicli all'interno del centro commerciale Quarto nuovo di Quarto Flegreo. L'attività investigativa condotta dalla tenenza Carabinieri di Quarto sviluppatasi attraverso l'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato ed attivo presso il citato centro commerciale ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine alla commissione di ben sei furti di motoveicoli commessi in un breve arco temporale tra giugno e settembre 2022 nel medesimo luogo negli stessi orari e con identiche modalità operative. wow